Come era prevedibile, l'intervento dell'ex sindaco Angelo Balsamo sulla costituzione della nuova società per la gestione in house dei rifiuti ha generato la presa di posizione del primo cittadino Angelo Cambiano, che ha affidato ad un lungo documento la propria replica. L'intervento dell'ex sindaco Balsamo, scrive Cambiano, è proprio di chi ha preso una cantonata, di chi populisticamente intende far presa sulla pancia della gente, parlando di spese e costi che li evitano invece che essere ridotti. Non voglio credere che un ex sindaco, prosegue da nota, faccia proprio un'interpretazione macroscopicamente grossolana delle norme che disciplinano la materia. Pertanto, nella consapevolezza che si tratti di mera strumentalizzazione politica, intento replicare punto su punto con il solo scopo di informare tutti coloro che hanno il diritto di conoscere la realtà. Nel ribadire che la Giunta ha solo recepito le deliberazioni del civico consesso, Cambiano mette in risalto come l'amministrazione si è dichiarata disponibile a qualsiasi supporto collaborativo, purché costruttivo e finalizzato all'adozione della scelta migliore. Qualsiasi scelta che liberamente sarà adottata dal Consiglio Comunale rappresenterà una sfida per l'amministrazione, un impegno maggiore ed un'attenzione sempre costante per il raggiungimento di standard ottimali nella pulizia della città, contestualmente ad una accurata gestione che porti ad una riduzione dei costi e dei tributi a carico della cittadinanza. Quindi, nel documento firmato da Cambiano, si passa all'elencazione di 11 punti, più salienti dei quali riguardano la composizione della società. Per le cariche di amministratori di società pubblica, scrive Cambiano, valgono le norme sulla incompatibilità e pertanto l'amministratore unico non potrà mai essere un assessore in carica. Per il Collegio dei Revisori non si può estendere il mandato ai professionisti già nominati per il Comune perché verrebbe violato il requisito di indipendenza previsto dall'articolo 2399 del Codice Civile. Nelle società, prosegue Cambiano, l'assemblea non può che essere costituita dai soci, quindi apprezzabilissima l'idea di coinvolgere il Consiglio Comunale ed organizzazioni di categoria, ma tale strada non è percorribile nella realtà in quanto l'unico socio è il Comune. Il Sindaco passa poi a parlare di costi di gestione. La forma di gestione prevista realizzerà un risparmio rispetto all'attuale costo di circa 1.500.000 euro. Relativamente ai comuni che hanno assunto l'iniziativa ex articolo 191 disimpegnandosi da Iato, è notoria la segnalazione dell'assessore regionale all'ANAC per la verifica delle regolarità delle procedure. Si ritiene fantascientifico, prosegue la nota di Cambiano, esternalizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ponendolo sotto il controllo del prefetto ne sembra attuabile da parte dello stesso l'affidamento ad una ditta inserita nella white list. Si parla di acquisto di mezzi, ma tutto ciò è previsto nel piano di intervento. E' populistico, scrive infine il primo cittadino in risposta ad Angelo Balsamo, parlare di rimborso di 10-20 centesimi per bottiglia perché non si ha la misura del valore economico del vuoto se le bottiglie di acqua al supermercato costano 1 euro e 20 centesimi. Nel sistema della raccolta differenziata sono previsti sistemi di premialità e di ingentivazione. Quello sui rifiuti è stato il primo terreno di scontro che ha certificato la definitiva spaccatura tra Balsamo e Cambiano, finora solo ipotizzata ma mai messa nero su bianco.